Ciao, sono Simonetta delle Maestre Cubetti. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del quartiere ricostruito dai nostri alunni. Come potete vedere tutte le case sono state riprodotte fedelmente nei particolari, nei colori. Per esempio nella via principale appunto del quartiere troviamo tanti servizi come il bar, come la tabaccheria, accanto ci sono abitazioni private e sempre utilizzando Google Maps abbiamo cercato di riprodurre fedelmente tutti i particolari a tal punto che sono stati collocati per esempio anche i cartelli con passo carrabile oppure le varie scritte. Questa per esempio è una panetteria. Naturalmente non abbiamo prodotto gli interni in quanto non c'era il tempo necessario. Qui troviamo un altro bar con posti a sedere all'aperto e posti all'interno.